Signore, non prego, c'è un ragazzo di fila qua, ragazzo! Ehi tu, che problema hai? Avevo questo segreto. C'è qualcosa di oscuro dentro di me. Mi ha seguito fin qui. E continuerà a darci la caccia. Corri! Abbiamo dei tre scorsi in comune. Questo Ghostface non è come tutti gli altri. Cos'è questo posto? Un tempio. Lo attiriamo qui. E lo ammazziamo. Pronto? Facciamo un gioco. Ma tu lo sai che sei il decimo che ci prova? Finisce sempre male per lo stronzo con la maschera. Forse. Ma non c'è mai stato uno come me, Gail? Io sono... diverso. Per questo ti sparerò in quella fottuta testa! Tu vuoi me. Facciamola finita. Ragazzi... Ragazzi... Un po' di noi? Grazie a tutti.